Le assemblee cittadine sono uno strumento che sono state già utilizzate in diversi stati europei e nel mondo. Un esempio molto celebre è quello dell'Irlanda, in cui sono state utilizzate per prendere delle decisioni anche radicali per quanto riguarda il matrimonio tra persone del stesso genere e l'aborto in un paese molto cattolico, quindi ci sono stati dei risultati sorprendenti.